Ehi la ciugna, sono Mazzetess e ci troviamo in compagnia di Marco Tantotto. Ciao, io sono Marco Tantotto e questo è un nuovissimo gioco in pausa. L'abbiamo appena comprato e ha dieci noccioline. Ma no, l'abbiamo rubato con tante boh. Quando registri Marco si sente la voce tutta strana, prima che non registravi si sentiva normale, boh. Eh perché sono io. Vabbè, comunque, ehi la ciurma, togli sta pausa, sei tu che stai gestendo la pausa, togli la pausa, voglio andare a picchiare della gente. Non sto gestendo la pausa. Si dice il giocatore copa ha messo in pausa in gioco. Non sono in pausa, sto cazzeggiando col Mimu, comunque adesso avviamo la partita. Eccoci, ragazzi, su Saints Row 4, non 1, non 2, non 3, ma ben 4 Saints Row. No, è inbagliato, è Saints Row 3 e mezzo. 3 e mezzo. Che è difficile che si riesce a spiegare. Esattamente il caso della scesa dei Third Street Saints. I Saints parlavano per la prima volta del 2006 e vengono subito universalmente disprezzati per la loro sfrenata ambizione. La gente non sapeva cosa pensare, erano una gang di killer psicopatici pronti a distruggere tutto e tutti? O solo simpatici ma scalzoni in cerca di divertimento sfrenato? I Saints devono scegliere scelsi. Più spasso, meno omicidi. Questo semplice svolto, rivitalizzo i Saints e trasformano dai sacchieri del giornalizzato in una notissima icone pop. Ok. Ma ai Saints ancora non bestava. Perché un conto è essere considerati degli eroi, ma essere davvero degli eroi è un'altra storia. Ed è qua, amici, che ha inizio il nostro viaggio. Cavolo, mi sembra un cattivo di mia conoscenza quello lì sulla poltrona. Tipo? Te? Tipo Marco 88? Ti ricordi i guardiani della galassia? No. Capo, come fai a dire che... Boh, mi sono perso. Come fai a dire che ti sei fatto mia moglie? Così? Questa è una visione. La donna tettuta. Era occupata con un attentato in... Asha è una dei buoni, vuole che la conosce ai tempi del KGB. Ma fanno finta di parlare al microfono, ma... Non hanno un microfono. Iniziamo bene. No, hanno qualche cosa sul collo. No, no, ma appena ha spiegato che non hanno il microfono perché hanno le batterie scariche. Quello ha il telefono in mano. Sì, è di sicuro la torcia del telefono, quella che usa. No, il telefono, come specchio. Ah, siamo tre minuti in ritardo sul programma. Una misa? Antiterrorismo, non è lo spot dei Saints Flow. Io sono Shaundi. Ciao, Shaundi. Questa è la fiammerocchia a pedoro. Ah, sì? Ma perché si, subito, guarda... Neanche guardi il viso. I lineamenti somatici di questa povera e dolce ragazza. Vuoi vedere la scena adesso a casa mia? Sono io che sto coccolando il gatto da un lato vicino al microfono. Ehi, guarda che tra poco dobbiamo sventare un'operazione antiterrorismo. Guarda, guarda, quello là. È anche il mio gatto. È una donna... Araba. Otto. Ah, ma quello si è già buttato giù. Il tipico rango della situazione. Eh, sarà di sicuro quello dei Saints. Ma non ci voglio spoilerare niente. Ma dai... A questo punto dovresti aver capito tutto. Vediamo se Mazzetess ci è arrivato. Una piccola predizione. Secondo me questa è una scena di un film. Non ci troviamo in città, quindi è impossibile se in trovo. È al 100% dentro una città, quindi... Questo deve essere un film. Che ne pensi tu? No, io penso che adesso è toccano di giocare. Dopo la scena introduttiva. Io penso... Io penso che dopo aver fatto questo viene fuori. Stop! Abbiamo nella prima! No. Questo è solamente un tutorial, sì. Per far capire come usare il personaggio. Sta arrivando un camion, porca miseria. Kenzi, aiutati! È un abbessimo hacker, un rispettato gente della MI6. È un elemento fondamentale della nostra operazione. Ah, cerca di uscire. Secondo me qualcuno è scoraggiato seguendo questa scia verdastra. Ma questo qua sei tu? Questo con il giglio vero e rosa viola sopra la testa? Sì. No. Questo qua? Ti sto vedendo. Ciao. Io sono quello che saltella come un cretino, guarda. Ah, dobbiamo sopprimere un terrorista? Dov'è che gli spacchiamo la faccia? F. Dov'è? Dov'è? Così si sopprime. Ma io non l'avevo visto, credo fosse dei nostri. No. Guardalo. Quello l'ho ucciso io. Ma è bugato. Dove stai andando? Non lasciarmi qua, ho paura. No, ci sono delle cose radioattive. Posso sparare? Spara, io sto guardando le tette di questa. Ah, ma ci sono dei nemici? Io non me ne ero mica accorto. Dove sono? Oh, sono saltato in aria. Ah, io sto prendendo fuoco. Sì, sì, è palesemente un film, questo. Questo è palesemente un film, sai? Ciao mamma, sto registrando. Marco, vi è andato un po' con la tipa. Cos'è successo? Io sto andando avanti. Ma dove sei? Ma non si capisce niente, è scritto tutto in arabo qua. Cos'è successo? Grazie per la visione!